Grazie a tutti. No, 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 lì giocherei fuori cazzo. Vandaggia, vandaggia. Allora, Presidente Gossiga, quando lei venne, noi le facciamo trovare... ...che sia perseguita, sembra. Su iniziativa di Mara Carfagna, molto brava. No, iniziativa di tutte, che non basti l'aspetto penale. Immaginabili. I motivi che non soppia. Mi sembrava importante... Milli tra poco dovrà lasciarci perché le prove di ballando continuano fino a tardissimo, però vorrei che lei che ha incontrato in tante occasioni Giovanni Odio, noi abbiamo sempre seguito con grande attenzione tutti i modelli. Adesso... Buonasera. Buonasera. Buonasera, Valeria. Buonasera, Barbara. Comunque una persona franca. È mezz'ora. Viene innanzitutto in primo piano e poi la carriera... Non è in antico... Mussolini è stato... ...con Newton che sono venuti stasera a farci festa.